A Bussi sul Tirino entro fine mese partirà la bonifica dell'area Tremonti. Questa fu la prima discarica ad essere sequestrata dai forestali nel lontano 2007 e dopo un lungo braccio di ferro tra Ministero ed Edison che spingeva per il tombamento, nel 2018 è stato approvato il progetto che prevede la rimozione totale dei rifiuti per circa 110.000 metri cubi e ad occuparsene sarà proprio la multinazionale francese. Tutta altra storia invece per le discariche 2A e 2B rispettivamente di 12.000 e 8.000 metri quadri dove la bonifica è ancora al palo. Edison infatti rifiutava la responsabilità su questi terreni che sono stati ceduti prima a Solvay e poi al comune di Bussi. Su chi debba eseguire la bonifica il Ministero ha fatto il gioco delle tre carte. Nel 2011 ha indetto la gara d'appalto i cui lavori sarebbero stati risarciti da Edison una volta accertate le responsabilità confermate dalla Cassazione a inizio novembre di quest'anno. La gara è stata vinta dalla ditta belga Dekdeme con un progetto depositato nel 2016 che dovrà essere completamente risarcito da Edison in base al principio chi inquina paga. La legittimità della gara è stata difesa dallo stesso Ministero in un ricorso contro la Toto Holding che anche essa si proponeva per la bonifica. Poi nel 2020 il Ministero prima ha misteriosamente dirottato i quasi 50 milioni per il sito di interesse nazionale al di Castero dell'Economia per poi farli tornare indietro a quello dell'ambiente. Poi ha annullato la gara vinta dalla Dekdeme rispolverando per giunta quegli stessi argomenti sostenuti da Toto. Il Tardabruzzo e il Consiglio di Stato hanno però dichiarato illegittimo l'annullamento della gara assegnata alla ditta belga la quale per lo stop al progetto aveva chiesto risarcimento i milionari. Antonio Blasioli, consigliere regionale PD e ultimo presidente della commissione d'inchiesta regionale, non si arrende e chiede con ostinazione dopo un iter di diversi anni di ricominciare da capo con un progetto di Edison. Noi oggi avanziamo tutta una serie di dubbi perché sosteniamo che il progetto Dekdeme potrebbe, sottolineiamo, potrebbe non passare il baglio di un organismo di valutazione, potrebbe passarlo con molto molto ritardo, potrebbe richiedere ulteriori fondi a carico degli abruzzesi della regione Abruzzo in base a un accordo di programma stipulato con il Ministero e soprattutto con certezza lascerebbe fuori le aree exiprite e fosgene. La domanda quindi è questa, perché su Tremonti agisce il soggetto inquinatore e invece sulle due L2B si fa con fondi pubblici e con una società esterna? Chiediamo al presidente Marsiglio di aprire un'interlocuzione con il Ministero per valutare se c'è ancora una possibilità di portare avanti la bonifica a carico di Edison. Blasoli è però smentito dallo stesso Ministero, così strenuamente difeso negli ultimi due anni. Rispondendo a un'interrogazione del deputato di Fratelli d'Italia, Alessio Butti, la sottosegretaria alla transizione ecologica, Ilaria Fontana, ha dichiarato che ora si sta procedendo con adempimenti burocratici sul progetto della Dekdeme e che la consegna dei lavori è prevista per il 1 agosto 2022.